Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere un video dove ho chiamato UAV, V-SAT e Unità K9 Allora, stiamo su i Jacked, eccolo qua E come arma userò la PDV, con silenziatore, caricatore aumentato e pugnatura Abbiamo, bene, non perdiamo tanto tempo, abbiamo il filmato Sì, mi campererò un po', però è la mia prima volta che chiamo l'Unità K9 Prepariamo il film, il video Guardate Conquistate gli obiettivi Inizio, partite un atto con questo C Il nemico, preso Alva Ma, buona, faccio andare avanti un po' Ok Ora, sei qua accanto, ho già Poi Dopo mi ammazzano, guardate Ecco, da adesso chiamo Da adesso in poi chiamo l'Unità K9 Qua wallbang faccio Ok Ricarico sempre Quando ammazzo uno, poi ricarico O quando spreco un colpo Perché se no, poi, non Non finisco l'unico Mentre sparo E poi Non posso ammazzare la gente Perché devo ricaricare Guardate qua Bouncing Ricarico Ritorno E c'è ancora davanti E qua ho quasi l'AV E qua campero Perché pensavo che c'era qualcuno Infatti lo vedevo Guardate C'è l'AV nemico e ho paura Allora l'ammazzo Vado sotto E adesso chiamo l'AV Per vedere dove sono Guardate, faccio spawn kill Guardate come campero adesso Guardate Mi metto qua perché ho paura E vedo che c'è uno lì Poi mi giro adesso Adesso mi giro, vedo l'ombra L'ammazzo Ricarico Anzi no, non ricarico Vedo un'altra ombra E lo ammazzo ancora Ho paura, allora vado giù Ma vedo qualcuno lì Che Sono un po' qua a mirare E prendiamo Che vedo che ci sia qualcuno Ma non c'è nessuno E bravo, è nostro Sono io Non è un'altra persona C'è l'AV 2000 sono Iscrivetevi al mio canale E io ricambierò Iscrivendolo al vostro Ecco Vedo Escriviti al mio canale Näscolo Eccolo qua guardate A vero Guardate Mè un set Con es вот S Address Infatti perché ho recosto un altro giorgi indietro guardate qua la campo ma manca poco per il viso guardate prendiamo bravo si sono molto eccitato perchè è la prima volta che faccio un'unità cappare in verità sarebbe la prima volta l'ho sbloccata, sono arrivato al 51 del quinto prestigio l'ho sbloccata, l'ho messa e l'ho chiamata campionandomi un po' però l'ho chiamata faccio paura, vado sempre all'esterno mi chiudo, mi fado di la alla sinistra perchè ho molto paura guardate qua ho paura inki non so dove era poi ho parato adesso ne ammazzo un altro mi manca 25 punti e finisce il round, guardate domani ma capite parlando aspetta sto facendo il video ecco qua ho anche 25 punti per il viso e poi chiamerò l'unità K9 ecco finito il round ma non è finita preparatevi dominio ok adesso vediamo un po' il nemico controlla C e va sotto controllo ora può campionare ancora ho paura allora vado indietro ora adesso vado indietro vado dentro ne vedo uno guarda che è qua il cecchino è un mazzo di Sat fatto senza pietà mamma mia mi stavo ammazzando metà del Vsat sono prendiamo Charlie un cecchino a terra sono metà del Vsat dell'unità K9 chiamo Vsat guardate quello adesso chiamo l'unità K9 guardate di qua lo ammazzo 50 punti per l'unità K9 mancano quale se li faccio il marker a uno guardate eccolo guarda che faccio il marker e lì stavo già scelterando che aveva fatto il marker ce l'ho avvenuto ma noi abbiamo un Vsat qua non c'è nessuno avevo un'unità K9 e ho fatto 141 beh ma andiamo andiamo avanti ci sono un'unità K9 24-1 mi ammazzano col missile estero mi ricordo con il mio mi sembra 26-3 26-4 26-4 ok questo ho ancora l'unità K9 mi ammazzano beh abbiamo vinto il round finita la partita che ho avuto l'unità K9 e iscrivetevi al mio canale Mattia Bassi ciao e buon gran video